tenete aurora questo è più meglio c'è dentro un seggiolino dai, dai papà papà, dai, papà tieniti papà, papà cominciati brava papà allora che è la bimba? papà che è la bimba? come dice la bimba papà? papà come dice la bimba? papà 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 come dice la bimba? allora come dice la bimba? aurora come dice la bimba? aurora ma che ti fai male così eh? spostati dove nell'erba come dice la bimba? come dice la bimba? o temeraria rona rona ok e ok andiamo in casa a mangiare la pappa ok come a casa per ora? no vieni Grazie.